Era il 24 settembre del 2021, quindi esattamente quattro mesi addietro, allorquanto ci siamo recati nel posto dove ci troviamo anche quest'oggi, quasi al 24 gennaio. Nell'area urbana coriglianese della terza città della Calabria, l'ultimo chilometro di contrada chiubica, lungo appunto questa arteria che collega la trafficatissima strada statale 106 con l'omonima contrada chiubica che collega varie zone del territorio coriglianese, contrada Bonifacio, contrada Santa Domenica e Vicignore. Quattro mesi fa, da questi stessi teleschermi, denunciavamo con un poco stupore un episodio di inodita inciviltà, non soltanto rifiuti gettati per strada in spregio alle più elementari regole del vivere civile, ma anche della sicurezza, perché si trattava questa volta di gomme, di pneumatici, un'insolita pioggia per l'appunto di pneumatici che abbiamo colto, disseminato appunto lungo questa strada. Ebbene sono passati quattro mesi da quella denuncia, che naturalmente era una denuncia di ferma condanna per questo comportamento di inciviltà, non si registrano tuttavia anche segnali da parte delle preposte istituzioni. Lo ribadiamo, gettare rifiuti per strada, soprattutto se ingombrandi, soprattutto se speciali come di questo genere, non giustifica assolutamente l'operato di questi concittadini che definire tali è davvero un eufemismo. Però tuttavia si pone il problema che laddove il danno è stato combiuto non si può rimanere questa distesa appunto di pneumatici lungo una strada trafficata, non soltanto per una questione di decoro urbano, ma anche per una questione di sicurezza. Ebbene questa pioggia, questo percorso di pneumatici è qui intatto a distanza di quattro mesi a fare questa volta non bella mostra di sé, come si dice in queste circostanze, ma cattiva mostra di sé. Quindi si somma all'inciviltà di questi cittadini che si sono macchiati di questo spiacevole, deprecabile gesto, anche l'indifferenza delle istituzioni. Ci appelliamo pertanto all'amministrazione comunale, anche alla polizia locale, affinché si renda conto di quanto accaduto e provveda, secondo ciò che è nei suoi compiti, secondo anche quanto rientra nelle sue possibilità, di mettere in sicurezza questa strada, di bonificarla, appunto eliminando dal manto stradale questi pneumatici. Pneumatici che lo ricordiamo soprattutto nelle ore serali, nel tardo pomeriggio, allorquando viene meno la luce solare, costituiscono anche motivi di insicurezza, motivi di pericolosità per quanti sono in transito in questa zona.